Un nuovo grattacielo sovrasta da alcuni mesi la città di Skeleftea, nel nord della Svezia. 25 piani, tutti ecosostenibili. È il Centro Culturale Sara, un complesso realizzato in legno, con materiale proveniente dalle foreste di conifere della regione in cui sorge. L'edificio ospita spazi espositivi, teatri, ma anche un ristorante e un albergo. Il Centro Culturale Sara, inaugurato lo scorso ottobre, è stato ideato per mostrare al mondo come è possibile unire design, materiali innovativi, ma anche eco-friendly, utili nella lotta sul riscaldamento globale. Jessica Baker, coordinatrice del progetto, spiega che si sta cercando di ridurre le emissioni di carbonio negli edifici, le strutture in legno sono molto utili perché hanno la possibilità di catturare il carbonio in questo modo. Si riduce notevolmente l'inquinamento utilizzando legno massiccio anziché acciaio di cemento. Il Centro Culturale Svedese è il terzo edificio in legno più alto al mondo dopo quello di Brümündal in Norvegia e la Torre Hoho di Vienna.